Sei alla ricerca di idee pratiche per aiutare i bambini ad apprendere i concetti logico-matematici? Iscriviti subito al prossimo webinar su tecnica della scuola dove vedremo giochi e attività di movimento che aiutano i bambini ad apprendere in modo più semplice i concetti che sono alla base dell'apprendimento scientifico e matematico le nozioni di numeri misure linee insieme quantità sono più facilmente acquisibili nel bambino quando fa un'esperienza diretta con il proprio corpo dove impara facendo non perdere il prossimo webinar su tecnica della scuola imparare la matematica con nel movimento